dinglong ma il campanello chi è andiamo ciao ciao trappola perché sei uscito perché sono andata a prendere le moto di quando io ero un giovanotto oh le voglio vedere ma sono vuoi le moto non possono mica essere dentro ho portato con me benjamine e topolina oh ciao come mai hai portati proprio apposta per far vedere le moto di quando io ero giovanotto va bene trappola chi è che sta facendo così c'è qualcuno che vuole scendere dalla botola lo sapevo ci sei sempre tu in questo modo però sei troppo esile è vero devo un po ingrassare già adesso andiamo a vedere subito le moto aspetta prima guardiamo la tv a benovare dove sì io sono proprio qua all'ufficio vediamo un po se c'è una novità sentiamo oh sì bravo trappola che ha comprato queste moto di quando ero giovanotto a quanto sento trappola ha preso le sue tre moto di quando era giovanotto e le ha lasciate proprio qua in custodite bravo trappola adesso me le posso portare con me ma sono tre non è una che cosa posso fare però un'idea rubo la prima noto beh adesso usciamo a vedere queste moto eh ma non aspettare tanto oh sì 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 va bene sì mi piace davvero tanto rubare oh sì 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 ed ecco qua vi faccio vedere le mie ma ma dove sono le avevo parcheggiate qua proprio in questo punto ma dove sono oh no trappola dove le avevo lasciate le avevo lasciate proprio proprio qui forse trappola lei lasciate in custodite e mi sa che qualcuno se l'ha rubato ma chi è stata io conosco una cattiva la toppa del muso lungo oh sì me la ricordo la toppa del muso lungo è vero oh no dobbiamo trovarla immediatamente ma dove si è cacciata devo andare a controllare la telecamera di sicurezza aspettate che vado dentro casa ma è possibile che trappola le ha lasciate proprio in custodite a qualcuno non le ha lasciate in custodite a qualcuno ma le ha lasciate proprio in custodite oh no 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 non le vedremo mai ma aspetta oh non mi ricordo come erano le moto ma perché ti sei cancellato tutto sì ci siamo cancellati tutti la memoria proprio l'abbiamo proprio fatta a passa per per essere più curiosi a quanto pare è proprio la toppa del muso lungo e dove è andata oh no se ne è andata proprio con le moto e adesso non c'è nessun segnale non si vede più niente è stato coperto da qualcosa la telecamera ma di che cosa oh no non possiamo individuare ma almeno ma almeno sappiamo che è stata la toppa del muso lungo amici è proprio stata la toppa del muso lungo oh va bene e dove si trova purtroppo poi la telecamera non ha fatto più registrare niente perché era stata coperta da qualcosa aveva un rumore sì aveva un rumore le scatole che si rompevano tipo questo non lo so trappola è proprio una cosa non lo so oh